La provincia di Salerno ha giudicato i lavori di ricostruzione della ponte Cagliazzano che collega i comuni di Padula e Sassano per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Appena arrivato, dichiara il presidente Franco Alfieri alla presidenza dell'ente, ho voluto seguire la questione molto delicata e complessa. Il ponte è chiuso al traffico dall'ottobre 2021 perché a seguito di verifiche si rendeva necessario un intervento di messa in sicurezza. Abbiamo dovuto acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e nulla osta dovuti per riuscire ad arrivare ad oggi. Il nuovo ponte che collega la sponda destra e sinistra del fiume Tanagro avrà una campata unica lunga 46 metri. Avevo preso un impegno agli inizi di maggio scorso dichiarando che i lavori sarebbero stati aggiudicati fra fine maggio e metà giugno. Mantenuta la previsione, ora proseguiamo. Ringrazio a concluso Alfieri la presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per aver finanziato tempestivamente l'opera.